Eccoci, eccoci, un saluto come state? Ben ritrovati da Milanello, la casa dei milanisti su YouTube. Come state ragazzi? Mamma mia, eh! Ci siamo capiti, speriamo che la serata possa essere positiva, che l'estate sia salva e che si possa essere felici, ecco. Poi c'è chi dice io tipo squadra italiana è sempre, io questa cosa non la voglio commentare, per me in Europa nella Champions League è solo il Milan, poi ci sono squadre tipo Fiorentina Conference, eccetera, mi piace, sono contento se vincono, ma non la seconda squadra di Milano, quindi se siete della seconda squadra di Milano niente, se siete della prima squadra di Milano mi raccomando iscrivetevi qui, se sperate che si asserva di una certa maniera, se sperate che, insomma, si possa anche commentare un mercato più che soddisfacente e se avete amato Van Basten e avete magari avuto qui Materazzi, allora testa è superato, iscrivetevi qui. Un benvenuto ai nuovi, vediamo quanti milanisti ci sono e quanti non milanisti. Un benvenuto ai nuovi milanisti che si iscrivono nel corso di questo video, che può essere importante anche perché è una giornata, speriamo, importante. Commentate numerosi con il vostro punto di vista, siamo a tanti aggiornamenti. Poi vi chiedo, dopo partita, prima di entrare in notizie di calcio mercato, molto caldo a nostro mercato, dopo la partita, se va come ci auguriamo, un blitz qui lo facciamo o evitiamo? Faccio un rapido sondaggio e lascio a voi. Se va in una certa maniera, un blitz dai lo facciamo, oppure no, leggerò i vostri commenti. Mi raccomando, iscrivetevi numerosi. Cosa succede? Allora, una serie di notizie. Innanzitutto partiamo subito con, devo dire anche buone notizie, una, due, modo particolare. Partiamo subito con una notizia che è ufficiale, anche se ne avevamo già parlato. Il Milan saluta ufficialmente Brian Diaz e il Real Madrid accoglie ufficialmente Brian Diaz. Giocatore che è stato qui qualche anno, che secondo me è cresciuto. Quest'anno ha fatto 6 gole, 6 assist. Alla fine non fruttiamo nulla della cessione, perché c'era un gentleman agreement che prevedeva una sorta di premio di valorizzazione, ma era ormai già andato. E quindi abbiamo utilizzato Brian Diaz, l'abbiamo anche un po' cresciuto e non ricaviamo. Questo è un peccato, ho detto che mi sento di dire grazie a Brian, che da un punto di vista di professionalità, di impegno e di spirito anche, non ha mai fatto mancare nulla. Ragazzo solare, molto disponibile anche con i tifosi, che può voler dire poco, ma invece vuol dire anche rispetto alla persona, alla professionista. Giocatore che è andato oltre anche i propri mezzi fisici non clamorosi e ha sempre combattuto. Quindi grazie Brian e in bocca al lupo. Io dico, spero che un domani, chissà, possa tornare magari più forte, perché è uno che comunque nel Milan ci stava magari non primissima scelta, ma come alternativa sì. E quindi salutiamo Ibrahim, un altro che lascia il Milan, il Milan che sta cambiando pelle, sta cambiando pelle e diventerà un Milan a immagine e somiglianza di Moncada e Pioli. Poi vedremo se saremo soddisfatti oppure no. Diventa ufficiale questa scelta e non è ancora ufficiale, ma il prossimo nuovo numero 10 dovrebbe essere Rafa Leao, che oggi compie tra l'altro 24 anni e augure ancora. La scelta che era dell'aria, era un ballottaggio tra il 7 e il 10, come posizione di campo forse più adatto il 7, ma ci sta che lui insomma possa prendere anche il 10, richiesta che aveva fatto quando ha rinnovato il contratto. Ne avevamo parlato qualche settimana fa, dovrebbe prendere la 10, quindi 10 Leao. Maglia che secondo me sarà molto venduta. Nell'ultimo anno il più venduto a livello di Maglia era Tonali. Questo mi ha stupito un po' perché di solito è l'attaccante, quello che fa gol, quello che riempie di più, magari anche l'immaginifico. In questo caso secondo me su Leao ha influenzato molto il fatto, ha influito il fatto che non fosse certa la sua permanenza, e quindi compro una Maglia che poi va via, nel dubbio prendiamo Tonali che resta. Quindi è restato Leao, secondo me ci sarà il boom di Maglie, poi Leao 10, figuratevi. Quindi per uno che se ne va uno resta e dovrebbe prendere a Maglia il numero 10, ma manca il 10. E lì possiamo fare, ripeto, il gioco delle coppie. Kamada e se vendiamo bene potrebbe essere Baldanzi. Ma attenzione, io ogni tanto la butto lì. Non è il numero 10, ma la posizione potrebbe essere quella, quel Milenkovic-Savic che è il sogno, è il pallino, la fissazione di Stefano Pioli, che avrà voce in capitolo, ha già voce in capitolo per quanto riguarda il mercato del Milan. Non è finita qui. Non è finita qui perché abbiamo poi, oltre a questa ufficialità di Brahim, il fatto che Leao dovrebbe prendere a Maglia il numero 10, abbiamo anche una conferma, poi parliamo di un'offerta ufficiale, abbiamo una conferma importante sulla pista calda, molto calda in questo momento, che si chiama Marcos Turam. Come ho detto già nel video precedente delle telefonate di Mr. Pioli, Milan che sta facendo di tutto, anche da un punto di vista economico, per accontentare il giocatore, per convincere a vestire la maglia del Milan. E nel giro di 48-72 ore, lui dovrà dare una risposta. Risposta che il Milan si augura possa essere positiva, perché in questo momento è la prima scelta. E vedete come comunque siamo a un nuovo capitolo del Milan, perché prima, per come ci raccontavano dal Milan, per quelle che erano le linee guida, mai ci saremmo immaginati di poter provare a prendere un giocatore che ti chiede 5 milioni e mezzo barra 6, se non 6 e mezzo di ingaggio. Vedete come forse prima un certo tipo di mercato non era concesso, lo dico, perché forse si voleva rompere con quel tipo di dirigenza e non concedere loro, insomma, quello che chiedevano. È brutto da dirsi, però io ho un sospetto, in tutto questo ce l'ho. Stiamo andando verso dei parametri zero, che comunque sono zero di cartellino, ma ingaggio considerevole. Quindi c'è una nuova era al Milan sul calciomercato. Sono molto curioso di capire che rapporto avremo con il calciomercato, con Furlani, con Moncada e con Pioli, e più attenzione ai parametri zero, ai parametri quasi zero, cioè 2024. Se non andasse in porto la pista Marco Sturam, il piano B è quella Scamacca, che ha fatto 16 gol l'ultimo anno in Serie A, che per caratteristiche anche database e algoritmi dicono potrebbe essere molto funzionale rispetto al progetto tattico di Mr. Pioli, giocatore che potrebbe arrivare anche in prestito dopo un'esperienza con otto gol in totale nel West Ham, condizionata poi anche dal problema fisico perché si è operato e rientrerà comunque, credo, per luglio, per la preparazione. Piano A Marco Sturam e piano B Scamacca. Mi rendo conto che sono due giocatori probabilmente che non ti fanno avere gli occhi a cuoricino, cioè devi essere poi in grado di valorizzarli come si deve nel Milan. Però ecco, vedo che c'è la volontà di fare, mi sembra doveroso, anche perché magari lunedì vedevo tutto nero, oggi inizio a vedere cosa succede e vediamo, anche se nel video di questa mattina vi raccontavo il mio sfogo nei confronti di Gerry Cardinale, che poi è stato implementato anche da Martinelli, ma sta per arrivare anche il video dell'Avvocato del Diavolo e Milano Nitti proprio anche su questo tema, dei loro strategici, delle conseguenze, delle falsità che sono anche circolate. Milan che deve fare player trading, non con i big, anche se Mignan, Chelsea è una pista purtroppo da seguire, non vuol dire che andrà, però è da seguire, non da scartare a priori, player trading con i giocatori che sono in esubero. Attenzione, perché nelle ultime ore è arrivata un'offerta ufficiale dal Bejiktas Club turco, che ha disponibilità economica, al Milan per Ante Rebic. Offerta non prestito, non dovrebbe trattarsi di prestito, ma offerta cash, quindi per prendere il caratterino e per riconoscere anche l'ingaggio al giocatore. Se riuscissimo a fare questa uscita sarebbe un colpo pazzesco, perché ci libereremo di un giocatore che è diventato un esubero, barra nocivo nel Milan, ci libereremo di un ingaggio a 3 milioni e mezzo di euro, che sono tanti, e andremo a liberare la casera dell'esterno di sinistra, che potrebbe essere quindi riempita con un giocatore più futuribile, più pronto all'uso. Attenzione, perché è molto importante cedere questi giocatori, cosa che prima facevamo un po' fatica a fare. L'unica vera plusvalenza l'abbiamo fatta con Ague più 10, più 10 milioni, e sono stati soldi importanti. Non so se con Rebic faremo plusvalenza, ma anche se recuperiamo i soldi per cui ha bilancio e risparmiamo l'ingaggio, abbiamo poi ulteriore fieno in cascina. Attenzione, Begiktas è il club che è interessato anche Orighi. Non mi pongo limiti, non poniamo limiti alla provvidenza, i club turchi che hanno soldi, io ho sempre detto Rebic, Germania, Orighi, club turchi o Premier, ora anche i club turchi che hanno un potere economico e vanno a prendere giocatori conosciuti dalle big, che sono magari in declino, fare tutte e due le cose, al Begiktas, non credo. Sarà uno dei due in questo momento più Rebic, offerta ufficiale presentata, perché Orighi preferirebbe tornare in Premier League. Però se vendiamo bene, possiamo toglierci altre soddisfazioni. Alla fine potrebbe essere un mercato sorprendente. A caldo, tutti abbiamo ragionato di pancia, via Maldini sarà un mercato deludente, misero, e invece credo che possa essere un bel biglietto da visita a livello di mercato, con tutte le considerazioni sentimentali delle quali abbiamo già parlato e approfondito. Quindi speriamo che possa andare in porto. Con Rebic abbiamo chiuso, Pioli ha chiuso, non l'ha convocato nemmeno nelle ultime due partite, giocatore che ha deluso anche parte dello spogliatoio, e che sarà mandato via anche con Maldini e Massara. Il fatto che, ragionandissima voce alta, lunedì si è insediato a questo nuovo Milan e siamo già alle offerte per i giocatori, ovviamente significa che ci siamo mossi prima, che il suo intorno al giocatore già si stava guardando attorno, perché era stato comunicato da Maldini e da Massara, però speriamo che possa essere un'offerta soddisfacente, accettabile, e allora avremo la necessità di andare a mettere un giocatore anche sulla fascia sinistra. Abbiamo già detto di Ashaoui, che è un'opportunità da non scartare, giocatore che si è proposto attraverso il suo entourage, che potrebbe venire a giocare, ma con Moncada dentro, secondo me, si va più su un profilo giovane, magari poco conosciuto, futuribile, che si può inserire e diventare un validissimo sostituto, una validissima alternativa a Leao, Leao 10, che è uno che comunque ti lascia poche partite da giocare strada facendo. Vediamo cosa succede, quindi weekend importante per Turam e anche ovviamente per l'alternativa Scamacca. Ragazzi, stasera io ci penso, anche se non siamo in campo noi, mi sarebbe piaciuto essere in campo noi e spero che vada in una certa maniera. Lo spero davvero, speriamolo insieme, se lo sperate anche voi, iscrivetevi qui. Chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano, commentate e lasciate un like, vi rimando al video precedente in cui vi ho parlato anche di altre operazioni. Sono ore calde, non siamo lì a guardare il mare, ma siamo lì a cercare di solfarlo. Non mi sembrava scontato qualche giorno fa, e quindi da questo punto di vista, da questo punto di vista, al momento sono soddisfatto, ho detto che dalle parole, dalle trattative bisogna arrivare ai fatti. Se ci diamo Rebic, ragazzi, ci liberiamo e possiamo festeggiare insieme. Speriamo di festeggiare stasera, dai, in qualche modo. Da gufi. Mi raccomando, come la vedete, dove la vedete, con chi la vedete, e dopo partita, se andate in una certa maniera, ci vediamo, magari anche tre minuti simbolici. Perché no? Commentate, commentate, lasciate un like, iscrivetevi qui, numerosissimi. Chi non si iscrive, ti fa la seconda squadra di Milano, ragazzi, vediamo quanti milanisti. Venite. Grazie.